Io sono Elena e sono una neolaureata in medicina alla Statale, faccio parte del collettivo Statale Impatto Zero che è nato per ridurre l'impatto dell'università. Oggi siamo qua perché è in corso la COP28 e stanno discutendo dell'eliminazione dei combustibili fossili. Noi vogliamo che i combustibili fossili vengono eliminati totalmente e gradualmente e in maniera equa dai sistemi energetici e produttivi. Purtroppo l'8 dicembre è uscito un set di accordi che tiene ancora in conto la possibilità di mantenere i combustibili fossili fino a metà del secolo e questo non va bene. Noi siamo quindi qua per mandare un messaggio ai delegati italiani della COP28 di firmare per un phase out dai combustibili fossili. Dai rapporti dell'IPCC sappiamo invece che il tempo stringe e se vogliamo rimanere senza i generali di aumento della temperatura abbiamo bisogno di eliminare, non diminuire, strutto dei combustibili fossili.